Musica Una serata a Resalè, tutta dedicata ai sapori del Salento. Cosa ci farà assaggiare oltre alla pizza? Beh, la pizza è la passione. Quello che tutte le persone assaggeranno questa sera invece sono le radici. Tra i piatti che proporremo c'è le fave nette con le cicorie, avremo orecchette con le cime di rapa, le pittule che è un piatto antichissimo, già i miei nonni lo facevano e i loro nonni a sua volta, le pucce che è un tipico pane ripieno di olive e poi abbiamo lo spezzatino di cavallo che è il piatto della festa dal posto da cui arrivo io. Perché questi piatti? Perché in realtà simboleggiano proprio a pieno i sapori, gli odori e il calore del sole dalla terra da cui arrivo. E poi anche perché questo qui è un regalo, una sorta di dono che voglio fare al paese che mi ha adottato da 25 anni a questa parte. E perché non farlo con dei piatti così buoni? Cioè, secondo me tutto quello che passa prima o dopo dalla bocca arriva al cuore per poi arrivare nello stomaco. Perciò spero veramente di cuore che quello che le persone mangeranno stasera lo vivranno come momento di estrema giovialità, ma soprattutto di calda amicizia. Tremula a terra, un ottimo contorno per questa serata a Resalee dedicata alle specialità salentine. Cosa ci farete ascoltare e perché no ballare? La pizzica pizzica, musica tradizionale popolare salentina, la faremo in chiave del tutto tradizionale con la fisarmonica di Stefano Lombardo, la chitarra e la tromba di Stefano Iascone, tamburello e voce che è mia, che sono Biaggio. Spazieremo dalla pizzica pizzica, appunto il ballo di coppia, il famoso ballo di coppia salentino, alle stornellate, alle vecchie musiche da Osteria, ragazzi, voi ce l'avete qua l'Osteria. Poi tante altre canzoni, stornellate, perché no, anche delle nenie, delle serenate che si cantavano all'epoca, quindi cercheremo di portare un po' di musica dal Salento qui a Monzambano. Grazie a tutti quelli che sono stati qua con noi stasera, va a Monzambano, perché comunque Monzambano per me è un po' come se fosse il mio paese, il mio nuovo paese, sono qui da un po' di anni, vengo da Lecce, per San Salentino. Salentino dentro è questa festa qua, viene da lì ed è una festa per tutti voi, perché questo qui è un regalo che mi è piaciuto fare a Monzambano, le persone che conosco, a cui voglio bene, e che spero che ne vogliono. Grazie di cuore a tutti, grazie di cuore a Dremona Terra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.